Siamo qui nel fiume Lamone. Tutti gli anni, la cascata è a mia destra, abbassandosi il livello del fiume l'acqua dolce non scende più, di conseguenza il fiume dalla parte di qua rimane tutta acqua salata. Io l'ho saputo oggi, di solito succede verso agosto, settembre, abito qui vicino, lo conosco molto bene il posto, purtroppo l'ho saputo solo oggi e di conseguenza di conseguenza sono venuto di corsa a vedere un attimo di salvare qualche carpa perché rimane tutta acqua salata. Io non so come sia possibile che nessuno faccia niente per queste situazioni e poi rompono le balle per altre cose, non so di chi si tratta, guardi o non guardi, io so solo che qui basterebbe una pompa che butti acqua dolce e in modo e maniera ad avergli un filo di ossigeno per il pesce. Io nel mio piccolo col mio rettino e materassino ho salvato una ventina di carpe da stamattina, adesso rimango un altro paio di ore e quello che posso fare faccio. È uno scempio, ci sono pesci morti, purtroppo se ne vedono pochi a galla, sono tutti sul fondo perché è già un paio di giorni che sono morti, parliamo di temori russi, siluri, luciperca, luci, carpe, amur. È una cosa indecente, io non so proprio a chi rivolgermi, non lo so, perché comunque si chiami anche le guardie, ti dicono sì, arriviamo, facciamo qualcosa e poi dopo niente, ti trovi comunque sempre da sola ad affrontare questa situazione. Adesso ragazzi, ogni volta che vedo una carpa cerco di prenderla e vediamo un po' quello che succede, purtroppo c'è del gran pesce morto e ce n'è tantissimo. Grazie. 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 carte mora. Capite di che cosa vi dico? Com'è la situazione qui, porco Dio? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ho fatto un giro, adesso, guarda, questo è morto, vi rendete conto? Grazie a Dio qui abbiamo tre belle carpe, ancora in vita, ancora sane. Io non mollo un cazzo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.